Ha preso vita a Sassari l'associazione Pensa, pubblici esercizi Nord Sardegna, il cui scopo è dar voce alle attività del settore Oreca, hotel, ristoranti, caffè, catering. Anche queste attività stanno subendo pesanti repercussioni per il forzato confinamento dovuto alla situazione sanitaria mondiale. Pensa si propone come primo obiettivo la presentazione di un documento in cui verranno manifestate le principali difficoltà attuali del comparto e presentate alle amministrazioni proposte di soluzioni e interventi immediati per far fronte all'emergenza. L'associazione intende proseguire successivamente con l'ampliamento delle adesioni e il rafforzamento della propria presenza sul territorio. I suoi 12 fondatori sono Marco Porqueddu, Claudio Cassitta, Roberto Sias, Alberto Fois, Fabio Muresu, Giuseppe Marras, Antonio Paoni, Gianluca Manchia, Giuseppe Marras, Roberto Piseddu, Marco Corda, Massimiliano Cilia. Una breve ricerca su internet ci conduce a una pagina Facebook di un'associazione piemontese con lo stesso acronimo che evidentemente non è da confondere con la neonata Pensa-Sassarese la cui finalità è rappresentare un settore economico-commerciale di vasta rilevanza.